Iniziate a comportarvi come le persone normali. Non avete il diritto di fare figli. Parasita. Fate schifo. Comporta in voi la donna. Hitler ha fatto bene. Vi dovevano gasare tutti. Togliti il velo, siamo in Italia. Non compravi. Siamo stufi di mantenervi. Nemici dell'occidente. Stai zitta e mettiti in burca. I crimini d'odio sono reati perseguibili penalmente. Sono quelle offese e quelle azioni contro persone e cose motivate esclusivamente dal pregiudizio. Se sei vittima o testimone di un'aggressione verbale o di un atto di violenza di stampo razzista, omotransfobico, antisemita o islamofobo, hai la possibilità di reagire. Perché non sei solo. L'odio lascia sempre il segno. Non restare indifferente. Gl Emerging Grazie a tutti. Grazie a tutti. La Francia grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla in viability o del giro. Grazie a tutti. But поз